...cento metri, falcata da 2,75 per volte, 43 passi, 43 passi e mezzo per Gay sui cento metri. C'è un europeo e cinque caraibici, due americani. E ma la sfida è già mai che Stati Uniti, ma bisogna fare attenzione, attenzione dove Chamberlain, prima torsia di Gran Bretagna. Guarda Tyson è entrato in gara già due ore fa. E l'uomo che controlla meglio. Tyson senza saliva. Dwayne Chambers, Gran Bretagna, uno, Mark Burns, Trinidad e Tobago, due, Daniel Bailey, Antigua Barbuda, tre, Usain Bolt, Jamaica, quattro, Tyson Gay, americano, cinque, Asafa Powell, Jamaica, sei, Doris Patton, americano, sette, Richard Thompson, Trinidad e Tobago, otto, otto uomini veloci, sette, uno velocissimo. Sette. Non parte benissimo di San Bo, e poi va a distendersi, va a distendersi, va a distendersi, gara ben secondo Pagnati, fai San Diego da Matteo Rosano Powell, guardiamo il tempo, guardiamolo. 9,58, 9,58, siamo in un'altra dimensione, siamo in un'altra dimensione, siamo in un'altra dimensione. 9,58. 9,58. 9,58. 9,58. 9,58. che adesso si aspetta per ufficializzare, 0,9, quasi un metro di vento alle spalle, quello che ovviamente un po' t'aiuta, ma adesso l'attesa per il tempo ufficiale, poi anche per i piazzamenti e poi tutte le considerazioni del caso. Oro e tempo mostruoso, questo 9,58, che ancora non è stato...